Ciao a tutti! Anche oggi continuiamo con le proprietà degli shape layer. In particolare vedremo la proprietà repeater. Vedremo che con il repeater si può replicare una forma più volte e ridistribuire le copie in vari modi all'interno della composizione. Benissimo! Cominciamo subito col creare una forma e in questo caso prendiamo in considerazione una stella. Quindi prendo lo strumento stella e disegno una piccola stella all'interno della composizione, qui per esempio. Adesso veniamo nella timeline, selezioniamo contents, il contenitore delle forme dello shape layer e qui a destra dal menu add cerchiamo la proprietà repeater, eccola qui, e la aggiungiamo all'interno dello shape layer. E immediatamente notiamo che la proprietà repeater ha creato tre copie della stella e le ha distribuite orizzontalmente verso destra. Benissimo! Adesso andiamo a prendere in considerazione i parametri della proprietà repeater. Quindi nella timeline apriamo repeater e il primo parametro che troviamo è copie, il numero di copie. Al momento ne abbiamo tre. Se aumentiamo questo parametro aumentano il numero di copie e si distribuiscono come le prime tre orizzontalmente verso destra. Poi tra un attimo capiremo perché si distribuiscono in questo modo. Per il momento lasciamo 5 copie. Adesso prendiamo in considerazione il secondo parametro offset. Se aumentiamo questo valore le 5 copie si spostano verso destra e se invece lo diminuiamo le 5 copie si distribuiscono verso sinistra. Insomma cambiano di posto a destra o a sinistra. Il terzo parametro composite è impostato su below. Cioè sta a significare che ogni copia della stella sta al di sotto della copia precedente. Infatti qua già si nota per esempio l'ultima stella sta al di sotto della penultima e via così tornando indietro. Se noi invece questa voce la cambiamo con above vedete immediatamente che ogni copia della stella sta al di sopra della precedente. Rimettiamo di nuovo below. Adesso apriamo la sezione transform repeater e vedremo che con questi restanti parametri sarà possibile distribuire le copie della stella in modi diversi all'interno della composizione. Innanzitutto il motivo per cui le stelle sono distribuite orizzontalmente una dopo l'altra verso destra è perché il valore x della proprietà position è impostato su 100. Cioè significa che ogni stella sta 100 pixel a destra rispetto alla precedente. Se io questo valore qui lo aumento come vedete adesso aumenta anche la distanza fra le copie delle stelle. Se io a zero questo valore quindi la posizione la riporto a 00 tutte quante le copie della stella stanno nella stessa posizione stanno in questo momento una sotto l'altra. E se per esempio anziché aumentare la posizione x aumento la posizione y ecco succede che le stelle vengono distribuite in senso verticale. Verso il basso se do un valore positivo alla posizione y e verso l'alto se do un valore negativo alla posizione y. Benissimo azzeriamo anche questo valore. Proviamo adesso ad agire sulla proprietà scala e vedere come si ridistribuiscono le copie delle stelle. Provo con il diminuire il valore della scala per esempio un valore di 70% cosa significa? Che ogni stella è il 70% di quella precedente e quindi la stella originale rimane grande come l'ho disegnata. La seconda stella 70% della prima, la terza stella 70% della seconda e così via fino a ridursi verso lo zero. Se io diminuisco ancora questo valore l'ultima stella praticamente è quasi zero adesso. Da notare visto che stiamo parlando della proprietà scala che l'anchor point che agisce per ognuna di queste copie sta al centro della composizione tanto è vero che rimpicciolendo le stelle tutte quante si rimpiccioliscono verso il centro e se ingrandisco la scala oltre il 100% si ingrandiscono nella direzione apposta al centro della composizione. Quindi questa cosa è importante cioè quando agisco sulle proprietà di trasformazione del repeater l'anchor point che viene preso in considerazione per ogni copia è il centro della composizione. Se volessi cambiare la posizione dell'anchor point di queste stelle allora dovrei agire sulla proprietà anchor point del repeater per esempio facciamo una prova potrei spostarlo verso sinistra e verso l'alto. Adesso l'anchor point delle copie sta al centro della stella per cui se aumento o diminuisco le stelle si rimpiccioliscono si ingrandiscono intorno al loro centro. Ecco fatto. Adesso riazzeriamo di nuovo anche l'anchor point e riportiamo anche il valore della scala al 100% originale. Adesso proviamo ad agire sul parametro rotation. Aumentando i gradi cosa succede che ogni stella ruota intorno al centro della composizione perché l'anchor point sappiamo che è lì e si distribuiscono le copie lungo una circonferenza. In questo caso ho cinque copie con 36 gradi per esempio di distanza tra una e l'altra. Ecco in questo caso se per esempio abbiamo un certo numero di copie facciamo una quindicina quindi scrivo 15 nel parametro copie e voglio distribuire uniformemente in modo perfetto le 15 copie lungo il cerchio si fa così. Nel valore dei gradi della rotazione basta scrivere 360 diviso e il diviso si scrive con la barra 15 cliccare il tasto invio e After Effects fa l'operazione per noi che in questo caso è 24 gradi. Benissimo lasciamo le stelle distribuite in questo modo. Vediamo un attimo le ultime due proprietà che sono Start Opacity. Proviamo a diminuire questo valore quindi la prima copia della stella diventa trasparente e a mano a mano le restanti copie diventano sempre più opache oppure rimetto questo valore a 100 e metto Land Opacity a 0 e in questo caso è l'ultima copia ad essere trasparente e a mano a mano che torno indietro diventano sempre più opache. Benissimo naturalmente posso agire contemporaneamente anche sugli altri parametri per esempio dopo aver distribuito le stelle in cerchio potrei anche diminuire la scala di ogni stella e quindi in questo caso ottengo una distribuzione tipo spirale e se aumento il numero di copie notate che la distribuzione a spirale continua all'infinito. Contemporaneamente potrei anche agire sui parametri della position per esempio spostare contemporaneamente le stelle anche verso destra o verso sinistra oppure potrei agire sulla proprietà Anchor Point e fare in modo che si raggruppano verso destra o verso sinistra. Insomma potrei distribuirle in tanti modi. Benissimo adesso prima di concludere vi faccio notare due o tre cose che riguardano il Repeater. Allora innanzitutto eliminiamo questo Shape Layer, lo seleziono, lo cancello e ridisegno di nuovo una stella come prima. Allora nel caso precedente avevo aggiunto la proprietà Repeater dopo la stella selezionando prima Contents e poi aggiungendo la proprietà Repeater e quindi ho la stella e il Repeater fuori dalla stella. Ma noi sappiamo che possiamo aggiungere anche le proprietà degli Shape Layer direttamente all'interno della forma e quindi eliminiamo Repeater e selezioniamo questa volta anziché Contents, Polystar. Andiamo nel menu Add, riaggiungiamo Repeater e come vedete adesso Repeater è stato aggiunto all'interno del contenitore Polystar. Il risultato che ottengo al momento è uguale a prima sempre tre copie distribuite una dopo l'altra a 100 pixel verso destra. Proviamo di nuovo aprire le proprietà di Repeater. Posso sempre aumentare e diminuire il numero di copie. Apro anche la sezione Transform Repeater. Posso distribuirle a sinistra a destra con la parametro Position. Posso anche azzerare la proprietà Position. Tutte quante le stelle stanno nello stesso punto. Adesso provo a aumentare la proprietà Scala e come notate immediatamente l'Anchor Point che viene preso in considerazione dal Repeater sta al centro della forma stella e non più al centro della composizione. E questa è una differenza importante. Quindi se io aggiungo la proprietà Repeater all'interno della forma l'Anchor Point di tutte le copie sta al centro della forma come in questo caso si vede bene. Se io invece aggiungo la proprietà Repeater fuori dalla forma e quindi selezionando Contents l'Anchor Point delle varie copie sta al centro della composizione. Benissimo quindi eliminiamo anche questo Shape Layer. Adesso invece vediamo cosa succede quando ho più di una forma all'interno dello Shape Layer. Quindi di nuovo disegno una stella, magari anche un rettangolo e poi anche un'ellisse. Quindi tre forme diverse. Bene quindi seleziono Contents come ho fatto la prima volta e aggiungo la proprietà Repeater. Immediatamente cosa succede? Tutte e tre le forme vengono replicate tre volte. Benissimo. Apriamo il contenitore di Repeater. Posso aumentare questo numero di copie. E se apro la sezione Transform posso aumentare la distanza tra le varie copie. Quindi praticamente il Repeater agisce contemporaneamente su tutte le forme che vengono prima e le distribuisce tutte quante allo stesso modo. Ma se io volessi replicare in modi diversi le varie forme dovrei fare diversamente. E ci sono due modi per poterlo fare. Quindi selezioniamo Repeater lo eliminiamo. Per esempio se io volessi replicare soltanto la stella e non replicare il rettangolo dell'ellisse potrei fare così. seleziono la stella. Vado nel menu Add. Aggiungo Repeater. In questo caso Repeater si infila dentro il contenitore stella e quindi funziona soltanto sulla forma stella. In questo caso potrei dare dieci copie della stella e una copia soltanto delle altre due forme. Però bisogna ricordarsi che in questo caso l'anchor point delle varie forme sta al centro della forma. Per cui se io per esempio agisco sulla rotazione della stella. Come vedete adesso l'anchor point sta al centro delle varie copie e non al centro della composizione. Ok questo è il primo sistema che posso usare per replicare soltanto una forma alla volta. Adesso vediamo qual è il secondo modo per replicare soltanto una forma. Chiudo il contenitore di Repeater. seleziono Contents. Aggiungo un Repeater. Naturalmente appena aggiunto il Repeater agisce su tutto ciò che sta al di sopra. Quindi sull'ellisse, sul rettangolo e sulle varie copie delle stelle. Ma se volessi per esempio agire soltanto sul rettangolo potrei fare in questo modo. Prendo la proprietà Repeater la metto dopo il rettangolo in questa posizione. Seleziono il rettangolo e il Repeater e li raggruppo. Quindi dopo averli selezionati con la scorciatoia CTRL G ho inserito questi due elementi il rettangolo e il Repeater all'interno di un gruppo. E quindi adesso questo secondo Repeater agisce soltanto sul rettangolo ma non sull'ellisse. Facendo così però l'Anchor Point delle varie copie tornerà di nuovo ad essere al centro della composizione. Infatti se io adesso a zero la posizione delle copie del rettangolo e poi aumento la proprietà Rotation e anche magari il numero di copie. Come potete vedere adesso le varie copie ruotano intorno al centro della composizione e non su se stesse come avevano fatto le stelle prima. Quindi ricapitoliamo. Quando ho più forme all'interno di uno Shape Layer e voglio replicarle in modo diverso uno dall'altro posso farlo in due modi. O inserisco il Repeater direttamente dentro il contenitore della forma come ho fatto prima. Oppure raggruppo il Repeater e la forma dentro lo stesso gruppo. Benissimo. Eliminiamo di nuovo lo Shape Layer e l'ultima cosa che voglio prendere in considerazione è vedere un po' cosa succede quando uso due volte la proprietà Repeater. Quindi di nuovo disegno una piccola stella in questa zona qui. Seleziono Contents. Aggiungo il Repeater. Aumento il numero di copie da 3 lo porto a 10. aumento un filo da distanza fra le stelle. Quindi apro la sezione Transform Repeater. Aumento la posizione X e distribuisco queste 10 copie orizzontalmente. Bene. Se adesso di nuovo seleziono Contents e ancora aggiungo una nuova proprietà Repeater. Cosa succede? Che il Repeater numero 2 replica le 10 copie. Quindi al momento io ho 30 copie. E queste prime 10 copie che avevo le posso distribuire magari in modo diverso. Apro la sezione Transform Repeater e anziché distribuirle orizzontalmente. Quindi a 0 la posizione X le posso distribuire verticalmente. Quindi ho le prime 10 copie che a loro volta diventano l'alimento da replicare all'interno del secondo Repeater. Quindi 10, 20, 30 e potrei aumentare il numero di copie 4, 5 eccetera eccetera. E in un attimo ottengo una griglia di stelle distribuite orizzontalmente e verticalmente. Quindi come si può vedere si può usare anche la proprietà Repeater più volte all'interno di uno Shape Layer e ottenere distribuzioni molto complesse. Benissimo. Quindi per oggi ci fermiamo qua e ci vediamo alla prossima.